No, eh, non vedi questa inquadratura, sarebbe perfetto, sarebbe perfetto, sarebbe perfetto. C'è anche stasera, tu me lo confermi? C'è anche stasera, e quindi? Tutta quest'aria in testa, come devo dire, soltanto perché c'è Cristina Chiavotto. Chiamala. Che ha questa malattia. Cristina Chiavotto, ringgiorno! Guarda il cameraman, subito il cameraman, pom! Finalmente l'altezza giusta è arrivata. L'altezza giusta, l'altezza giusta c'era prima, perché noi siamo perfetti come altre salle. Allora, buffettini miei, ditemi. Buffettini. Così lei ci chiama, amorevolmente. Allora, Cristina Chiavotto e poi scendendo Mauro Pulpio e Serena Garitta, vi invitano questa sera, aspetta, ma non da oggi, no? Quindi questa sera, giustamente, non è che possiamo invitare ieri sera. Questa sera allo Stadio del Mare di Pescara, questo naturale trio, presenta una galleria di comici pazzesca. Vi ricordate qualche nome? Sì, Nando Timoteo! Paolo Migone! La Rimbabend! Vasumi! Peppe Iodice! Peppe Iodice! I ditelo voi, un cast pazzesco da Zelig, da Colorado, con noi tre che ve lo somministriamo un po'. Venite, divertite. Ecco, le chiamo, quest'era ore 21. Ore 21, bravo, non venite più tardi, non venite più tardi, è un casino se venite più tardi. Ci vediamo, bella pesca, bella pesca. Bravissima, posso andare, ciao. Fatto bello. Finisci con un'inquadratura, ciao, ciao, finisci con queste inquadrature. Una occasione unica per la città, per mettersi in mostra, perché la registrazione della serata andrà in onda dal 10 agosto sulla piattaforma Sky Canale 122, come di Central, e con repliche che andranno avanti per tutta l'estate. Una troupe di 150 persone si muove attorno allo spettacolo, un ritorno economico per la città, ma soprattutto una importante promozione di immagine per Pescara. Ci saranno anche degli stacchi per far conoscere la città di Pescara, i punti più significativi del territorio, dal centro, dal centro storico, il corso principale della città con le sue bellissime vetrine, il teatro d'annunzio, Aurum, le parti più importanti della nostra spendita città. Non resta che allontanare le nubi di pioggia che in queste ore si stanno addensando sulla città e godersi una serata di sane risate.